ETA-BETA, nuovi mestieri, nuovi linguaggi. Le nanocipolle sono delle nanoparticelle di carbonio e si chiamano nano perché sono molto piccole, 16.000 volte inferiori al diametro di un capello. E perché cipolle? Perché sono fatte a strati concentrici. Queste nanoparticelle sono composte di carbonio, che è il secondo elemento presente nel corpo umano, sono biocompatibili, non sono tossiche e quindi le stiamo sviluppando per diverse applicazioni biomediche. Per esempio, possiamo usare queste piccolissime particelle che possono entrare nelle cellule e l'idea è di modificarle utilizzando la chimica, le nanotecnologie, renderle fluorescenti in modo che possiamo vedere dove vanno e seguire il cammino nella cellula. Aggiungere delle molecole che vanno a riconoscere i recettori presenti su delle cellule, per esempio cellule malate, e quindi indirizzare il loro cammino e poi utilizzarle per portare e rilasciare farmaci soltanto alle cellule malate. Per esempio, farmaci antitumorali rilasciati solo sulla cellula tumorale e non sulla cellula sana per ovviare a tutti i problemi che danno i chemioterapici, quindi problemi secondari, tossicità varie. C'è quella che non poteva andare all'università, quella odiata dai nazisti, quella che invece nessuno amava, quella a cui hanno scippato le scoperte, quella che era anche una diva del cinema e quella che diva non era perché il divo in famiglia era suo marito, un certo Albert Einstein. Oggi vi raccontiamo la storia di sei donne che hanno davvero cambiato il mondo. Una buona giornata, un buon sabato da Massimo Cerofolini. Benvenuti all'ultima puntata della stagione di ETA-BETA. In copertina, Silvia Giordani, chimico dell'Istituto Italiano di Tecnologia che racconta i suoi studi sulle cosiddette nanocipolle, nanoparticelle di carbonio che stanno dando un grande contributo nella lotta ai tumori. Una scienziata di oggi, Silvia Giordani, con cui apriamo questa puntata dedicata a sei scienziate di ieri. A narrarci le loro straordinarie storie è una studiosa di scienze, ma che è anche attrice e scrittrice e che ha pubblicato il libro Sei donne che hanno cambiato il mondo. Si chiama Gabriella Grayson ed ecco cosa ci racconta. La cosa che accomuna queste sei donne sono il passato che hanno avuto, un passato fatto di voglia di realizzare i propri sogni. Ecco, loro erano sei donne che andavano dritte per la loro strada, che sapevano esattamente quello che volevano e non gli importava di tutte le scemenze che c'erano intorno, anche dei premi, non gli importava niente, non gli importava dei riconoscimenti che avevano. Loro volevano semplicemente essere loro stesse e si realizzavano con la scienza. E quindi la scienza è la cosa che per loro diventa il punto principale, il punto focale della loro vita. Lei tra l'altro nel suo libro fa anche una panoramica delle donne che dai tempi antichi, dai pazzi ai giorni nostri, hanno tentato sia pure in modo quasi eccezionale, sporadico, la strada della scienza. Che caratteristiche ha lo sguardo femminile quando si tratta di scoprire, di inventare qualcosa di utile? Ecco, lo sguardo femminile è sempre lo sguardo più umano rispetto a queste situazioni e ai luoghi che vivono. Anche nella descrizione dei colleghi stessi c'è un punto di vista umano e per quello io lo prediligo. E poi perché hanno voglia di capire cosa c'è dietro, cosa c'è dietro i fatti, cosa c'è dietro le teorie, cosa c'è dietro la scoperta e anche dargli una connotazione più umana anche alle semplici equazioni, a dei numeri che molte volte non lo sono mai stato. Però la cosa che mi piace in particolare del loro percorso è la purezza, il candore che danno indietro quando trovano qualcosa, quando scoprono qualcosa e poi creano il mondo che è quello dove viviamo noi. Tra l'altro pochi lo sanno ma le donne hanno scoperto anche cose molto utili usate ogni giorno, vero? Sì, esatto. Per esempio l'invenzione della scatola della pizza, l'invenzione del giubbotto salvagente, l'invenzione del tergicristallo, lampione a gas, sedia a rotelle, quel sistema che permette agli anziani di entrare e uscire dalla vasca. La prima del racconto è Marie Curie, polacca, che comincia proprio la sua strada, malgrado un grande talento per gli studi scientifici con un'opposizione da parte della Università di Varsavia. Eh sì, il suo percorso è stato molto difficile l'accidenti. Lei non poteva essere accolta come studente all'inizio e poi successivamente anche se seguiva le lezioni non poteva fare gli esami, doveva essere una semplice uditrice. Poi dopo quando ha preso il posto di assistente di laboratorio non veniva pagata, doveva autofinanziarsi il lavoro. Tra l'altro rifiutata dall'Università di Varsavia va alla Sorbona e questo forse era stata la sua fortuna perché lì incontra l'amore della sua vita. Eh sì, perché sente la notizia che c'è un certo signor Pier Curi, lei Maria Sclodosca, che cerca un assistente di laboratorio, un assistente senza l'apostrofo e allora lei si presenta e cavolo Pier all'inizio rimane sconcertato dal vedere una donna in un laboratorio, non è normale, soltanto 27 donne su 776 laureati era la percentuale, però lei con la sua grande voglia di fare le propone mille cose, era indomabile per tutte le energie che voleva riporre nella scienza, lui certo che l'accetta, miglioriamola questa scienza e miglioriamo la società e quindi finalmente un assistente con l'apostrofo nel suo laboratorio. Dopo di qui si buttano tutte e due sul studio più popolare del momento, quello successivo alla scoperta dei raggi X e qui scoprono due cose molto importanti. Eh cavolo, sì, perché lei era tratta dei lavori di Wille Röthgen che l'8 novembre del 1895 aveva scoperto i raggi X e così convince Piera a fare un nuovo esperimento, misero dell'uranio in polvere sopra una piastra metallica, le sovrapposero una seconda, chissà se passa corrente elettrica nell'aria tra le due piastre si chiese Maria. Eh sì, la corrente passe come, più uranio era presente più alta era l'intensità. Allora Maria decise di testare altri minerali contenenti uranio come ad esempio la Pecblenda e Maria intuì che questa Pecblenda conteneva a sua volta delle sostanze decisamente più radiattive dell'uranio andarono avanti nei loro lavori fino a che arriva alla conclusione delle sue ricerche. Aveva scoperto due nuovi elementi della tavola periodica il radio e il polonio. Queste due scoperte valgono ai coniugi il premio Nobel però qui c'è già una prima annotazione sgradevole un pregiudizio maschile verso la donna. Cosa succede alla premiazione? Certo perché arriva in casa il giornale 11 dicembre 1903 iniziano a scorrere leggono ecco i premi Nobel dell'anno il premio per la fisica diviso equamente tra Henri Becquerel e Pierre Curie e quindi di Marie Curie non c'era traccia però Pierre vorrà portare l'equilibrio in questa situazione e scriverà subito se davvero si sta pensando a me io posso dire con certezza che non ritirerò il Nobel se non con la nomina congiunta anche di mia moglie Madame Marie Curie per rispetto per giustizia nei confronti del lavoro fatto insieme sui corpi radiattivi e così entrambi furono tra l'altro Marie Curie rinunciò ai brevetti quindi qualsiasi persona poteva usare il radio e il polonio per fare qualsiasi cosa e si dà vita a un'industria dai contorni veramente allucinanti ah sì ma perché tutti se ne appropriano Maria voleva semplicemente che la scienza progredisse però le discipline olistiche i santoni i veggenti i cartomanti gli astrologi tutti si appropriarono del radio e iniziarono le pubblicità più aggressive del tipo dentifricio al radio creme solari al radio shampoo per i capelli al radio tisane al radio e addirittura sigarette al radio e pensa che mix nicotina e radio insieme così se vi viene un tumore non saprete a chi dare la colpa non è che Marie Curie ci andasse leggera perché lei girava con le boccette di radio in tasca e la loro casa è stata bonificata soltanto in tempi relativamente recenti esatto perché Maria girava con due bottiglie di poloni e radio in tasca le metteva nel cassetto della scrivania e addirittura sul comodino di fianco al letto un'abitudine che si rivelerà nefasta vengono i brividi a pensare che soltanto nel 1991 fu bonificato il quartiere la casa il laboratorio il divano e tutti gli oggetti furono isolati ma tuttora se uno va a fare le ricerche e vuole come ho fatto io sono andata a consultare tutti i suoi libri bisogna bardarsi ed escono fuori da scatole piombate e anche i suoi ricettari di cucina per dire sono ancora contenuti in questi piombi ecco poi Pier Curie muore in un incidente e lei si trova al centro dell'attenzione dei media anche quelli scandalistici per una vicenda così di affare d'amore con un altro scienziato eh sì Maria era vedova già da cinque anni perché Pier è morto in aprile del 1906 e lei girava sempre con un abito nero sempre tranne una volta che la videro addirittura con un abito blu con dei piccoli fiorellini rosa sul davanti figuriamoci una giornalista delle Figaro appena vide questo dettaglio si incuriosì ed entrò in casa di Maria si mise a cercare tra le sue carte sul suo scrittoio e trovò delle lettere delle lettere d'amore firmate Paul Langevin Paul Langevin era un fisico rispettabilissimo in Francia padre di quattro figli sposato e la giornalista fece la stessa cosa a casa di Paul Langevin si mise a cercare tra le sue carte e trovò delle lettere di Marie Curie decise di pubblicarne una parte e figuriamoci la stampa intransigente del periodo scatenò una forma di odio nei confronti della donna e quella che fino veniva considerata la madre devote e l'aiutante solerte divenne per tutti la polacca la ladra di mariti poi vince un secondo Nobel stavolta per la chimica e anche qui succede un fatto sgradevole ma che in qualche modo viene risolto da un personaggio molto noto sì perché nel 1911 sempre quando era presa dello sconforto perché appena usciva di casa la insultavano la ditavano la prendevano in giro non poteva fare niente però la chiamano da Stoccolma e le dicono ha vinto il suo secondo premio Nobel in chimica stavolta il primo era in fisica e le dissero anche non venga a ritirarlo non vogliamo che lo scandalo arrivi fin qui e figuriamoci oggi con le cose che sono successe sul Nobel della letteratura vabbè lasciamo perdere però Maria quindi è lì chiusa in casa non sa cosa fare fino a che dopo una settimana riceve una lettera una lettera in cui la invoglia la sostiene la spinge ad andarla a ritirare il Nobel a testa alta e lei lo farà e la lettera è firmata Albert Einstein Albert Einstein è protagonista anche della seconda storia che lei racconta nel libro di Lise Meitner madre della bomba atomica che è appunto Edmund Sudalizio con Einstein sì perché allora Einstein la chiamava la nostra Marie Curie perché era ebrea e austriaca e gli piaceva tantissimo a Einstein a Einstein piacevano queste donne con cui parlare con cui avevano una testa enorme grandissima e allora Lise Meitner è stata fondamentale per il suo percorso per la sua scoperta dell'infinitamente piccolo gli studi sull'atomo Lise Meitner era imbattibile da quel punto di vista tant'è che collaborò anche con Niels Bohr a Copenhagen insomma un'altra donna che veramente merita di entrare nelle sei che hanno cambiato il mondo Lei però ebbe un problema grave perché oltre a subire i pregiudizi dei colleghi in università poi nel 1933 dovette in quanto ebrea fuggire in Svezia per le persecuzioni naziste Sì certo perché nel 1933 è uscita la legge secondo cui gli studenti e professori di origine ebraiche dovevano abbandonare le scuole e Einstein si trovava già in America a Princeton e lei prima passa da Niels Bohr a Copenhagen e poi dopo va in Svezia e si rifugia lì ma continua le ricerche con Otto Hahn Otto Hahn è rimasto in Germania e lui gli mandava le lettere dei risultati che trovava e lei gli spiegava che cosa aveva trovato e quindi la collaborazione tra i due continua ecco loro lavorano insieme tanti anni tante ricerche dieci volte candidate al Nobel poi Otto Hahn vince il Nobel e al contrario di Pierre Curie si comporta in modo poco nobile è certo è vero infatti non la nomina neanche Lise comunque non si dà per vinta lei va avanti a parte che era stata molto colpita amareggiata stupita distrutta dalla vicenda della bomba atomica lei viene chiamata la madre della bomba atomica a sua insaputa aggiungo io perché non sapeva che tutto questo avrebbe portato all'esplosione di un ordine anzi finisce i suoi giorni in un impegno pacifista e antimilitarista esatto lei continuerà la sua vita fino alla morte appoggiando queste cause pacifiste antimilitariste antirazziste e poi vive da sola vive da sola senza amore così come la terza scienziata di cui lei si occupa nel libro che è Emmy Noether anche lei è tedesca anche lei è appunto singola anche lei è ebrea e anche lei ha un rapporto molto stretto con Einstein chi era Emmy Noether? Emmy Noether era una matematica prima di tutto e Einstein l'adorava per la sua matematica tant'è che io sono venuta a scoprire della sua esistenza quando hanno ripubblicato la lettera che Einstein aveva spubblicata sul New York Times in cui la celebrava e la esaltava era una lettera di commiato perché appunto era morta da pochi giorni e diceva a tutti che la sua matematica sarebbe stata la matematica del futuro e cavolo avere un riconoscimento così grande di Einstein non è cosa da tutti i giorni e quindi è stata una donna fondamentale anche però per il suo carattere che era molto particolare il suo modo di fare che vuoi dire eh sì perché era tipo oggi si chiama sindrome di Asperger aveva questo modo di fare molto lineare sempre dritto ti racconto un aneddoto c'era una volta pioveva in questo istituto dove lei lavorava e lei usciva sempre con questo ombrello che era sempre tutto rotto i ragazzi la prendevano in giro che aveva sempre l'ombrello rotto allora un giorno un preside la chiama nel suo ufficio e gli dice ma scusi ma non può cambiarlo questo ombrello e ne compri un altro no ma io penso all'ombrello soltanto quando piove ma quando non piove non mi viene in mente che mi serve un ombrello quindi nella sua testa era lineare filava tutto anche lei subì l'opposizione dei cattedratici anche lei subì le persecuzioni di Hitler tant'è che fuggì in Pensilvania sì anche lei certo perché queste donne hanno dovuto combattere non soltanto il maschilismo imperante di quegli anni ma poi anche la grande oppressione da parte della Germania e di Hitler che non gli permetteva di fare il loro lavoro insomma sono andati avanti con diverse velocità al loro interno e fermiamoci un istante in questo percorso tra le eroine della scienza del secolo scorso per aprire una finestra sulle donne protagoniste nella ricerca di oggi per capire l'importanza dello sguardo femminile uno sguardo che è anche laterale ma carico di compassione di voglia di capire il mondo abbiamo chiesto allora una testimonianza a Loretta Falcone madre scienziata della NASA che applicando i modelli delle sue ricerche nello spazio è riuscita a scoprire la sindrome di Pandas alla malattia che aveva colpito suo figlio e così malgrado lo scetticismo dei medici dell'ospedale lei che medico non è è riuscita a curarlo e a fare tra l'altro anche molto di più ho cominciato la NASA molto giovane come scienziata e lì il mio primo progetto era di studiare giove e ho fatto un modello di questo pianeta poi ho fatto i primi robot per andare su Marte con un'intelligenza artificiale che si chiama machine learning quando la macchina o il robot impara come un bambino non come un esperto finché sono stati in Italia ho avuto un bambino e un giorno questo bambino non si sava tanto bene era molto malato perché i dottori non sapevano cosa fare era disperata e mi sono messa davanti a tutta la ricerca per aiutare il mio bambino di tutte queste esperienze che ho avuto all'inizio della mia carriera come scienziata finalmente ho trovato una soluzione e l'avevo curato con poco con un antibiotico e poi però c'erano questi bambini con lo stesso problema che aveva il mio figlio e volevo aiutare questi bambini quindi ho messo in piedi una conferenza medica e sono venuti delegati di 23 paesi e adesso ho aiutato tanti bambini ho fatto il training per il dottore e i bambini non soffrono più di questa cosa adesso sto mettendo in piedi una piattaforma elettronica di educazione tramite internet dove i dottori possono fare i crediti per la medicina con un ospedale a Como Gabriella Grayson autrice del libro Sei donne che hanno cambiato il mondo continuiamo la nostra camminata nella vicenda umana di queste scienziate straordinarie la prossima è Rosalind Franklin ancora una scienziata di famiglia ebraica ancora una donna sola come le altre due precedenti e anche lei che ha a che fare con i raggi X chi era Rosalind Franklin? Rosalind Franklin era una strepitosa scienziata lei aveva questa voglia di dedicarsi alla scienza come massima dedizione voleva più di tutto nella vita realizzarsi come scienziata in un laboratorio ecco non tutti i laboratori accettavano le donne fino a che ne ha trovato uno dove era possibile lavorare con i raggi X e fare fotografie al DNA e una fotografia in particolare la fotografia numero 51 le diede la gloria ma non diede tanto la gloria a lei all'inizio quanto invece ai due che gliel'hanno rubata e poi hanno vinto il Nobel al suo posto ecco vogliamo dire cosa rappresentava questa fotografia rappresentava esattamente il DNA con la doppia elica prima ad accorgersi che il DNA ha una doppia elica così come noi la conosciamo oggi esatto lei è stata la prima e questa cosa ha avuto un eco straordinario Krieg e Watson quelli che poi passano alla storia come gli scopritori del DNA si imbattono in questa fotografia e da lì approfondiscono e riescono a ottenere il prestigio la fama il Nobel sì perché loro creano il modello per loro è importante creare il modello in modo che poi ci sia una diffusione mentre a lei il modello non gliene fregava niente perché non pensava alla creazione in serie di qualcosa e allora continuava nelle sue ricerche e niente quando gli hanno chiesto di scrivere un articolo a commento del modello che avevano creato gli altri due lui lei è certo che l'ha scritto non gli è importato di scrivere un pezzo di spalla capito? per nulla offesa da questa vigliaccata diciamo tant'è che Watson 15 anni dopo il Nobel così timidamente ammette concede che forse qualcosa ha rubato alla Rosalind Franklin sì esatto anche perché lui ha avuto un pentimento successivo c'è stato un cambiamento nella sua vita dopo tre donne single una invece che diciamo recupera anzi con gli interessi è di Lamar sposata ben sei volte diva di Hollywood tra le più conosciute e pure straordinaria scienziata sì è di Lamar la donna più bella del mondo prima dell'arrivo di Marilyn Monroe e cavolo è di Lamar ha avuto un percorso nella scienza che gliela ha messo in testa suo nonno che le leggeva le biografie dei grandi e lei si è scritta al Politecnico di Vienna e così voleva proseguire i suoi studi ma siccome era molto bella e a casa si specchiava continuamente la famiglia della ricca borghesia austriaca la invogliavano sulla strada del cinema perché quello doveva essere la sua realizzazione lei poi lascia a 16 anni gli studi di ingegneria per dedicarsi alla vita da diva e quindi farà un film il primo nudo integrale della storia del cinema 20 minuti di applausi al Festival di Venezia ed è stato un percorso in crescendo per lei perché poi anche lei ebrea nel 1936 si imbarca sul Normandì e inizia un'altra vita perché il Normandì era un transatlantico di proprietà Metro Goldwyn Mayer e il signor Luis Mayer la sceglie come prossima protagonista dei suoi film crea uno pseudonimo perché lei si chiamava Edwin Kisler la chiamerà Edi Lamar perché evocava la diva del muto Barbara Lamar e poi crea un intenso battaggio pubblicitario e a fianco al suo nome alla sua foto l'appellativo definitivo la donna più bella del mondo e per questo che tutto il pubblico cinematografico vede in lei la donna più bella del mondo Poi nel 1940 tutta Hollywood si mobilita contro il nazismo in Europa e anche lei pur viennese vuole dare il contributo anzi dimostrare di essere fedele agli Stati Uniti e qui si inventa una cosa molto importante Sì perché man mano che va avanti fa i film più prestigiosi Sansone e Dalila L'Inferno ci accusa L'animale femmina eccetera però poi li torna su qualcosa del suo passato e quando conosce un compositore d'avanguardia si chiamava George Anteil con lui crea un sistema l'SCS che permette di intercettare i siluri ecco viene brevettato e nell'85 viene tolta la qualifica di segreto militare e viene utilizzato dalla moderna tecnologia telefonica che doveva cercare un sistema per la comunicazione a distanza e usarono proprio l'SCS quindi per questo è alla base del nostro wifi poi dopo un periodo piuttosto difficile in cui viene anche arrestata per un piccolo furto in un supermercato dopo sei divorzi a questo crollo segue invece una rinascita perché lei diventa una infaticabile inventrice di mille cose diverse sì è vero infatti poi il suo percorso cambia completamente e diventa scienziata a tutto tondo perché lascia tutto lo sfarzo del cinema lascia tutti e sei i mariti non si interessa più all'estetica e alla bellezza e a tutto questo ma si dedica agli istituti di ricerca inizia a devolvere soldi agli istituti di ricerca e prende i premi più prestigiosi ma lei se ne frega e poi inizia le invenzioni un collare fluorescente per cani un nuovo tipo di semafori delle migliorie da portare al progetto dell'aereo supersonico il Concorde la scatola di Kleenex sì quella ferma di Fisarmonica l'ha inventato lei ma è una serie di cose che l'hanno portata in pace ricordiamo che il 9 novembre data del suo compleanno si celebra in tutto il mondo la giornata dell'inventore eh sì il 9 novembre è la giornata dell'inventore in tutto il mondo che è il giorno in cui lei è nata Marie Curie invece è il 7 novembre e l'ultimo personaggio di cui si occupa nel libro è Mileva Maric grande scienziata però oscurata dalla fama del suo più noto marito un tale Albert Einstein che ricorre sempre nei suoi personaggi sì in effetti sì perché Einstein per me è stato il filo comune di tutte queste 6 donne che ho selezionato e in particolare la sua prima moglie Mileva Maric che era una scienziata era una fisica e quindi non potevo inserirla nelle 6 donne che hanno cambiato il mondo anche perché loro insieme hanno scritto tanto di quel lavoro per cui Einstein verrà celebrato come il padre della relatività e quindi lei è per forza un punto chiave della sua vita nel 1905 l'anno mirabile di Einstein in cui fa 6 lavori differenti ognuno dei quali avrebbe meritato un Nobel si dice che il contributo di Mileena Maric sia stato molto importante in questi studi anche perché Einstein ricordiamo lavorava a tempo pieno come impiegato all'ufficio brevetti di Berna quali sono le cose importanti che lei ha fatto a beneficio a supporto del lavoro del marito e beh le cose che ha fatto sono straordinarie perché avere una moglie che per di più è scienziata è fisica e capisce esattamente le cose che tu stai studiando era il massimo che potesse avere a Einstein entrambi frequentavano il Politecnico di Zurigo e hanno fatto i primi esami insieme così sono andati avanti per un bel pezzo della loro vita hanno avuto poi tre figli poi sono rimasti soltanto due si sono sposati e poi Einstein è esploso nessuno lo poteva trattenere e allora è andato oltre dopo la teoria della relatività ha creato la teoria della relatività generale e è andato avanti con il suo percorso che era però lontano da quello di sua moglie si separano poi con un divorzio dai contorni non proprio sereni e lei finisce la sua vita forse in modo immeritato sì perché poi non si è più realizzata in realtà come scienziata e come fisica e ha avuto un grosso pentimento però lei è un personaggio molto combattuto e controverso io adesso con le mie ricerche che sto facendo a Zurigo e a Berna vado avanti non mi fermo qui perché lei mi incuriosisce molto grazie allora Gabriella Grayson autrice del libro sei donne che hanno cambiato il mondo e grazie anche alla squadra di oggi Laura Nerozzi in redazione la collaborazione di Rita Mari la regia di Paola De Gaudio etabeta.rai.it il sito se volete ascoltare queste e le altre puntate di Etabeta etabeta.rai.it invece se volete scriverci ma vi ricordo che siamo sempre su Facebook su Twitter dove pubblichiamo tantissime notizie sul mondo che innova cliccando su mi piace rimaniamo anche in contatto e potete seguire tutti gli aggiornamenti da Massimo Cerofolini passate una buona estate noi ci risentiamo a settembre Grazie a tutti